Atomic Redster G9 RS Revo è uno sci dedicato agli atleti master di gigante con un raggio di 21 metri e 67 mm al centro della lunghezza di 176 cm. L'Ultra Power Woodcore 2 Layer di Titanal e la piastra Active Race Interface garantiscono uno sci sotto controllo in tutte le condizioni. La tecnologia Revo Shock attutisce le vibrazioni indesiderate offrendo stabilità e una maggiore accelerazione all'uscita dalle curve. Gli sci hanno un profilo camber. Atomic G9 Revo Shock provato nella misura 176, provato in condizioni neve abbastanza compatta, non durissima. Ho notato che questo sci è molto piantato a terra, molto stabile, proprio lasciare due binari belli decisi dietro di noi, però non così maneggevole, non così intuitivo e semplice da inserire in curva, molto aggressivo, quindi una volta messo di spigolo veramente bello, però si fa un po' fatica arrivare fino a lì, sia nelle curve ampie che nelle curve medie che anche in quelle corte. Uno sci prettamente da gigante, struttura molto stabile, molto pesante, lo consiglio per nevi sicuramente dure, adesso ho testato in neve trasformate e ho fatto leggermente fatica. Lo consiglio per sciatori che amano fare curve da gigante e che amano sfruttare le prime ore della giornata. Sicuramente bello piantato per terra, quindi lo consiglio a sciatori con una buona prestanza fisica. Uno sci che fin dalle prime curve si sente che ha veramente carattere, ha l'anima dello sci da gigante e sicuramente il suo più grande pregio è la stabilità. Uno sci che è veramente piantato a terra, una conduzione perfetta, ti permette di andare a grandi velocità senza aver la minima sbavatura ed essendo molto preciso. Unica pecca la spatola, la spatola è veramente robusta, bisogna starci proprio sopra per farla entrare e farla deformare, quindi se non si è ben centrali si rischia spesso di cadere sulle code. Uno sci piantato a terra, sicuramente la sua neve ideale è la neve dura, provato su neve marcia risulta un pochino pesante ai piedi ma sicuramente anche lì divertente perché ti dà stabilità, ti dà sicurezza, da consigliare ad un pubblico L6, L7, sciatori esperti che amino sciare con una sciata prestazionale magari non tutto il giorno perché è uno sci comunque impegnativo. Testato su neve è dura, è uno sci con grande carattere, sicuramente per l'utilizzo quotidiano richiede grande impegno fisico e grande centralità. La caratteristica che mi ha stupito tantissimo è la stabilità e la precisione in ingresso curva. Consiglio questo sci a un livello 7, uno sciatore evoluto che ha voglia di grandi performance.